Sold out per il concerto dei Comacose a Londra, il duo italiano ha regalato grandi emozioni ai suoi fan che hanno cantato tutti i loro più grandi successi. Londra è stata senz'altro una scoperta per i Comacose che sono stati sorpresi dalla calda accoglienza del pubblico. Dopo il successo londinese, i Comacose sono la prova che non bisogna mai smettere di credere nei propri sogni, nonostante le difficoltà. Dopo sei anni di duro lavoro, la coppia è riuscita a lasciare il segno con la loro musica. Tuttavia, il tour prevede un'altra tappa europea, quella di Parigi, il 7 maggio, e poi continuerà in estate con nuove date in tutta Italia. Ma intanto si spera che a Londra ci sarà un altro meraviglioso modo di incontrarsi. E comunque andrà, non è una possibilità, non è una possibilità.